In questa lezione ci occuperemo dell'autotrasformatore ideale. Il vantaggio principale del trasformatore è quello di poter trasferire tra due circuiti segnali elettrici mantenendo l'isolamento elettrico fra di essi. Tuttavia, quando questo non è richiesto, è possibile ricorrere all'autotrasformatore. Lo schema dell'autotrasformatore è riportato in figura e in pratica vi è una presa intermedia che è stata indicata con la lettera B in cui viene separato l'avvolgimento principale che adesso è costituito da due avvolgimenti di N1 ed N2 spire rispettivamente e dunque a partire dalla tensione in ingresso V1 e a seconda del numero di spire N1 e N2 possiamo ottenere una certa tensione di uscita V2. Vediamo qual è la relazione fra la tensione V1 e la tensione V2. La tensione V3, che vi è tra il punto B e il punto A in particolare la tensione V3 è la tensione VAB visto che punta sul morsetto A può essere ricavata applicando la legge di Faraday e dunque dipende dal flusso concatenato. La tensione V3 è uguale a N1 per la derivata del flusso rispetto al tempo. La tensione V1 invece dipende dal numero di spire N2 ed è la tensione fra il punto B e il punto C. In questo caso risulta pari a N2 per la derivata del flusso rispetto al tempo. Quindi possiamo ottenere la relazione fra V3 e V1 in particolare V3 sarà uguale a N1 diviso N2 per la tensione V1. A questo punto possiamo applicare la legge di Kirchhoff delle tensioni e quindi la tensione V2, che vi è tra il punto A e il punto C è uguale alla somma di V3 e V1. Sostituendo, otteniamo che V2 è uguale a N1 diviso N2 per V1 più V1 e quindi possiamo raccogliere V1 e otteniamo che la tensione V2 è uguale a N1 più N2 tutto diviso N2. Come si vede, la tensione V2 dipende dal numero di spire N1 e N2. Vediamo adesso qual è la relazione fra le correnti I1 e I2. Per fare ciò è necessario ricorrere alla legge di Ampere. Quindi consideriamo una linea chiusa e vediamo quali sono le forze magnetomotrice che agiscono sull'autotrasformatore. In particolare, con la regola della mano destra vediamo che il flusso dovuto alla corrente I2 va verso l'alto il flusso dovuto alla corrente I3 va verso il basso. Quindi otteniamo N1 I2 meno N2 I3 uguale a 0. I due flussi appunto sono discordi. Quindi otteniamo che la corrente I3 è uguale a N1 diviso N2 per la corrente I2. Quindi applicando la legge di Kirchhoff delle correnti otteniamo che I1 più I2 più I3 è uguale a 0 e quindi sostituendo otteniamo che I1 più I2 più N1 diviso N2 per I2 è uguale a 0 e raccogliendo I2 otteniamo che la corrente I2 uscente dal morsetto A è uguale a meno N2 diviso N1 più N2 per la corrente I1. Anche in questo caso, come potevamo aspettarci, la corrente I2 e I1 sono legate dal numero di spire N2 ed N1. Dunque abbiamo trovato le relazioni fondamentali che legano le tensioni e le correnti in un autotrasformatore ideale. Come si può vedere dalle equazioni costitutive, le relazioni fra le tensioni e le correnti dipendono dal numero di spire N1 e N2 e in particolare è possibile definire un rapporto spire N del tutto analogo a quello del trasformatore in cui I1 è uguale, in questo caso, N1 più N2 diviso N2. In questo caso l'autotrasformatore sarà sicuramente elevatore dato che la tensione V2, dipendente da N1 più N2 al numeratore, sarà sicuramente maggiore della tensione V1. Tuttavia è possibile anche costruire un autotrasformatore abbassatore. In questo caso V2 sarà uguale a N2 diviso N1 più N2 per V1 e I2 sarà uguale a meno N1 più N2 diviso N2 per I1, quindi il rapporto di trasformazione N è uguale a N2 diviso N1 più N2 e in questo caso abbiamo un autotrasformatore abbassatore come quello riportato in figura. La tensione V2 sarà sicuramente più bassa rispetto alla tensione V1 dato che N2 diviso N1 più N2 e il rapporto di trasformazione comporta una diminuzione della tensione al secondario V2 rispetto alla tensione V1.